. Bianca Balti, sexy topless davanti allo specchio . La nuova sticker cover del cellulare di Bianca Balti è molto ingegnosa, soprattutto per chi, come lei, vuole scattarsi tanti selfie davanti allo specchio. Per testarla? La supermodella italiana colpisce nel segno specchiandosi in topless nel suo bagno, che momento ho. Bianca Balti, topless davanti allo specchio per testare la nuova cover. . Sulle sue Instagram stories, Bianca Balti condivide con i fan il suo nuovo acquisto in fatto di accessori per il cellulare, la sua sticker cover da attaccare allo specchio è perfetta per i suoi selfie e ancora di più se si tratta di sexy selfie. La modella di Lodi si trova in bagno e decide proprio di stupire i suoi fan girando su se stessa mentre si guarda allo specchio. . Come? In topless, coperto elegantemente da un semplice asciugamano con cui la 33enne cala il sipario sul suo décolleté. . Bianca sembra apprezzare moltissimo la sua cover e siamo sicuri che, prossimamente, il social delle immagini ci regalerà tanti scatti della bellissima mamma di Matilde e mia. . Questo, per la Balti, è un periodo carico di emozioni e impegni lavorativi, soltanto pochi mesi fa, ad esempio, si è sposata in un meraviglioso abito stile impero con il lui del suo cuore, Mattè Bunkrae, incantando tutti a volta in un sogno di finissimo pizzo bianco. . 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 Suo portamento, alla sua eleganza e al suo charme incredibile, Bianca Balti ha lanciato un forte messaggio sul red carpet della mostra del cinema di Venezia, indossando un abito a kimono meraviglioso, realizzato dalla Maison Love Host. E indovinate? Sul tappeto rosso, è stata una delle visioni angeliche che più ha lasciato estaseato il pubblico. E indo by broth3rmax